Euro 20-24 Buono il movimento di Bukayo Saka Che riesce ad andare al cross Si getta sul pallone L'uomo più atteso Che la sblocca lui per l'Inghilterra La prima partita Jude Bellingham Non c'è più tempo Finisce così Con la vittoria dell'Inghilterra Che debutta nel torneo Grazie a un gol di Bellingham Grazie a tutti